Buonasera, è l'1.06, l'ultima edizione del nostro telegiornale, la cominciamo da Milano. Oggi è arrivato il primo bollettino medico ufficiale con la conferma che Silvio Berlusconi è affetto da leucemia e che ha cominciato già le cure con i chemioterapici. In più c'è da curare anche una polmonite. Oggi dal fondatore di Forza Italia sono andati di nuovo i figli, gli amici di sempre e poi è riuscito a parlare anche con Giorgia Meloni e Matteo Salvini al telefono. La telefonata nel pomeriggio dall'ospedale al Consiglio dei Ministri. Silvio Berlusconi ha voluto parlare con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, segnale che le condizioni gravi lasciano comunque spazio per brevi colloqui come quelli della mattina con i vertici di Forza Italia. È stata però la giornata del primo bollettino medico ufficiale. Il documento è firmato dal medico personale Alberto Zangrillo e dal professor Fabio Ciceri, primario di Oncoematologia, nello stesso ospedale. Zangrillo specifica che il leader di Forza Italia è da tempo affetto da una forma cronicizzata di leucemia meno letale della patologia acuta e trattabile con farmaci chemioterapici e la terapia è già in corso. Berlusconi è anche sotto antibiotici, c'è la polmonite da curare, dorme molto ed è stazionaria. Siamo veramente consapevoli che è curato nel migliore dei modi, questo ci dà la garanzia che è trattato molto bene e quindi noi siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello è tirato più forte di questo. Il fratello Paolo era stato il primo ad arrivare in ospedale questa mattina, la compagna Marta Fascina non ha mai lasciato l'appartamento riservato al San Raffaele, quello dove veniva curato Berlusconi nei frequenti ricoveri, da ieri invece è in terapia intensiva. I figli si sono alternati nel reparto, Marina, Barbara, Luigi e Piersiglio questa mattina ha cenato addirittura a un sorriso. Oggi è stato anche il giorno in cui arrivano gli amici di sempre, Adriano Galliani, e davanti all'entrata del padiglione si incrociano e si salutano Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri. Sono venuti per stare vicino al vecchio amico, mai come questa volta indebolito dalle malattie, ma quando è sveglio raccontano i medici e sempre vigile. Dieci anni fa all'inizio del suo pontificato Papa Francesco scelse Casal del Marmo, un istituto di pena minorile, per la messa e la lavata dei piedi del Giovedì Santo. Oggi, appunto a dieci anni di distanza, è un po' più affaticato e è tornato nello stesso istituto. Tutti sbagliamo, ognuno di noi può scivolare. Papa Francesco ha concluso i riti del Giovedì Santo alla periferia di Roma, nel carcere minorile di Casal del Marmo. È arrivato sulla sedia a rotelle, ma anche se è apparso ancora un po' affaticato, il pontefice ha eseguito la lavanda dei piedi a 12 detenuti italiani e stranieri, sei di loro minorenni e sei appena maggiorenni. Francesco è tornato nell'istituto di pena dove aveva celebrato la sua prima messa in cena a Domini, nel 2013, all'inizio del suo pontificato. Ai giovani detenuti ha regalato rosari e uova di cioccolato e ha ricevuto in dono dei biscotti, un pacco di pasta e una croce di legno, prodotti realizzati nei laboratori del carcere, frutto del lavoro al centro dei progetti di reinserimento. Gesù non si spaventa delle nostre debolezze, ha detto Francesco, con la lavanda dei piedi vuole insegnare la nobiltà del cuore. In mattinata il Papa ha concelebrato nella Basilica Vaticana la messa crismale e durante l'Omelia non ha risparmiato un monito rivolto ai sacerdoti. Non sporcare la chiesa con le cordate, le fazioni e il chiacchiericcio. Ha invitato i religiosi a custodire l'armonia, ad accogliere e perdonare, ad evitare il carrierismo. Tutti possono vivere una crisi di identità o di vocazione, ma anche da lì si può ripartire. Domani, nella seconda giornata del Triduo Pasquale, Francesco presiederà la celebrazione del rito della passione con la Via Crucis al Colosseo e al termine impartirà la benedizione apostolica. Il presidente francese Macron e la presidente della Commissione Europea von der Leyen hanno incontrato oggi a Pecchino il presidente Xi Jinping. Hanno provato a convincerlo a riportare la Russia alla ragione, a trattative di pace. Quanto prima hanno anche messo in guardia la Cina su quello che non ci si aspetta dal dragone, cioè che fornisca armi a Mosca. Macron e von der Leyen hanno ripetuto l'invito a Xi di parlare con Zelensky. Xi Jinping, basandosi nuovamente sul suo piano in 12 punti, ha ribadito che lo farà quando le condizioni saranno opportune. Una risposta che ormai dà da settimane senza chiarire se e quando intende realmente farlo. Ma da Mosca le porte restano chiuse, come ripetuto dal portavoce del Kremlino Piescoff. Ad ora non ci sono prospettive per soluzioni pacifiche. E c'è una notizia che è stata diffusa poco fa dal New York Times e ha a che fare con qualcosa che è accaduto nei giorni scorsi sui social, in particolare su Twitter e su Telegram, che ha molti canali seguiti in Russia. Sono state divulgate su questi canali delle carte segrete degli Stati Uniti e della Nato che hanno a che fare sui piani di rafforzamento dell'Ucraina. Questi documenti contengono piani strategici, elementi sulla consegna delle armi, lo stato delle truppe e dei battaglioni ucraine sul campo. Questi documenti però non sono stati divulgati così come erano, ma ci sono state delle modifiche che riguardano i numeri delle vittime. Sono stati aumentati i numeri delle vittime ucraine e diminuiti quelli dei russi, il che fa pensare che si tratti appunto di un'operazione di intelligence russa. In Israele adesso. Israele in serata ha cominciato a colpire con dei raid della striscia di Gaza. È la risposta ai missili che sono piovuti oggi dal Libano. Ha sul loro volta una risposta alle incursioni che sono state fatte dalle polizie israeliane all'interno della moschea di Al-Aqsa per due notti consecutive. Ma Libano per Israele significa soprattutto Hezbollah che è alleata di Hamas che governa appunto a Gaza. E soprattutto era dal 2006 che i rapporti con Libano non erano così tesi. È la risposta palestinese agli ultimi scontri sulla spianata delle moschea a Gerusalemme. Ma stavolta la provenienza dal sud del Libano indica il rischio concreto che possa innescarsi un conflitto su scala più ampia. Non accadeva da 17 anni. Bisogna ricordare il 2006 e la seconda guerra israeliana con il Libano per trovare un attacco missilistico simile a quello delle ultime ore. Almeno 34 razzi sono piovuti in territorio ebraico. Il sistema antimissili Airdom ne avrebbe intercettati 25. Tutti sono comunque esplosi in aria in direzione del mare e sulle aree a ridosso della striscia di Gaza dietro i lanci. Ci sarebbero le fazioni palestinesi più agguerrite in sostanza per il Ministero della Difesa israeliano. Un attacco di tale portata è impossibile senza il via libera di Hezbollah. A Beirut è arrivato il capo di Hamas. Gaza, Ismail Ania, vedrà il leader del gruppo paramilitare sciita Nasralla e l'incontro dovrebbe preludere ad un escalation della tensione che in Israele va avanti da settimane alimentata da scontri continui vicino la striscia e nei territori occupati a massa. Non rimarrà seduta con le braccia concerte di fronte all'aggressione israeliana alla moschea di Al-Aqsa. Ha detto Ania, il premier di Israele Benjamin Netanyahu ha convocato d'urgenza il Consiglio per la Sicurezza ma per il momento l'esercito ha confermato di non avere ancora risposto all'azione partita dal Libano. L'intelligence sta valutando un possibile coinvolgimento dell'Iran da sempre sostenitore dei gruppi Hezbollah. Da Beirut il primo ministro libanese Najib Mikati ha dichiarato di rifiutare l'uso del suo territorio per operazioni che destabilizzano la situazione ma il momento è giudicato preoccupante dalla missione dell'ONU Unifil ne fanno parte anche un migliaio di militari italiani rientrati nei bunker delle basi dopo i primi attacchi missilistici. In un quadro già molto complicato per la concomitanza di Ramadan e Pasqua ebraica il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha chiesto a tutte le parti di evitare qualsiasi azione unilaterale. Andiamo in Francia undicesima giornata di mobilitazione proteste e scontri contro la riforma delle pensioni una giornata che si è conclusa con oltre 150 feriti per lo più tra le forze dell'ordine e 111 fermati. A Parigi però gli incappucciati in nero hanno preso di mira incendiandola la celebre Brasserilla Rotondo il luogo caro a Macron dove il Presidente ha festeggiato le sue elezioni. In strada per fronteggere i black bloc sono stati schierati in tutto il paese oltre 11.000 poliziotti 4.200 solo nella capitale ma non è bastato affermare gli estremisti che hanno distrutto l'area urbana vandalizzato una banca incendiato Cassonetti. Anche oggi quindi le frange più estreme hanno rubato la scena al pacifico corteo organizzato dai sindacati che voleva sfilare tranquillamente per contestare la modifica all'età minima pensionabile passata da 62 a 64 anni una posizione sulla quale però il governo resta fermo. Torniamo in Italia ci sono tracce matiche e segni di lotta nel bosco della Val di Sole dove un runner di 26 anni è stato trovato oggi morto probabilmente a ucciderlo è stato un orso. Sono state riscontrate lesioni importanti sul corpo di Andrea Papi il runner 26 anni è trovato morto nei boschi di Caldes nella Val di Sole in Trentino si attendono forse già domani i risultati dell'autopsia poi verrà deciso in quale direzione dovranno andare le indagini l'ipotesi più verosimile sarebbe quella di un'aggressione da parte di un animale selvatico probabilmente un orso il 26enne una laurea in scienze motorie appassionato di trekking era uscito di casa ieri pomeriggio per allenarsi e si sarebbe diretto verso una zona impervia del bosco ma comunque conosciuta in serata quando la compagna e i familiari non lo hanno visto rientrare a casa è scattato l'allarme carabinieri uomini del soccorso alpino e vigili del fuoco lo hanno cercato anche con i droni a trovare Andrea senza vita verso le 3 della notte sono stati i cani molecolari il corpo del ragazzo era vicino a una malga che appare in questo breve video postato da Papi su un social network con la scritta PIS nel caso l'autopsia confermasse l'aggressione mortale di un orso si tratterebbe della prima uccisione di un essere umano in Trentino da parte di un animale selvatico bisognerà capire quale è stato non tutti gli orsi nella zona hanno il collare per la geolocalizzazione viene applicato solo agli esemplari più problematici l'animale potrebbe anche averlo perso queste sono le settimane del risveglio dal letargo qualche settimana fa sempre in Val di Sole un escursionista trentottenne era rimasto ferito per proteggere il suo cane dall'aggressione di un orso e il presidente della provincia Massimo Fugatti che questa mattina era andato di persona sul luogo del ritrovamento aveva ordinato l'abbattimento di quell'esemplare già classificato scatenando le proteste delle associazioni animaliste parliamo ora di calcio ma non di quello che succede esattamente durante una partita parliamo di quello che succede sulle curve in particolare a Napoli e di quello che è accaduto al termine di Juve e Inter di Coppa Italia con una rissa in campo ha intervenuto il giudice sportivo tre gare di squalifica a quadrado punito con la sanzione più pesante per il burrascoso finale di Juventus Inter il giudice sportivo ha inflitto anche un turno di stop ad Andanovic e a Lukaku chiudendo per una partita il primo anello della tribuna sud dello stadium da quel settore sono partiti i cori razzisti verso il centroavanti nero-azzurro i giocatori sconteranno la squalifica in Coppa Italia mentre la Juventus avrà la curva parzialmente vuota in campionato nell'impegno del 23 aprile contro il Napoli il club bianconero potrebbe presentare ricorso nonostante abbia già segnalato due tifosi alla Digos non gli è stata concessa la sospensione della pena intanto con le polemiche ancora vive e l'Europa sullo sfondo riparte domani la Serie A gli anticipi del turno pasquale vedranno in campo tre big a Salerno l'Inter deve riscattare le tre sconfitte di fila che hanno complicato la sua corsa Champions la squadra di Simone Inzaghi è scivolata in quarta posizione agganciata dalla Roma e superata dal Milan a San Siro di fronte a un Empoli avviato verso la salvezza Pioli conferma il modulo tattico che gli ha permesso di sbancare Napoli la capolista vuole invece dimostrare di aver assorbito il colpo e a Lecce insegue una delle cinque vittorie che le servono per la certezza del titolo sono rimasto l'ultimo dei samurai scherza il tecnico Spalletti l'unico che in città si rifiuta di considerare cosa fatta la conquista dello scudetto ancora fuori Osimen il bomber nigeriano proverà a recuperare per l'andata del derby italiano con il Milan il mercoledì nei quarti di Champions League è tutto è lunedì 19 ci fermiamo domattina alle 7 torna l'informazione grazie arrivederci buonanotte grazie a tutti